Una vasta piantagione di cannabis nel territorio comunale di Sant'Omero è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Teramo. L'operazione è stata realizzata attraverso una sinergia tra il dispositivo terrestre e la componente aereo navale che con l'impiego dell'elicottero AV139 nella zona collinare dell'entroterra Teramano ha individuato la coltivazione di marijuana. Il target territoriale, prontamente segnalato dalla sezione aerea di Pescara al comando provinciale di Teramo, ha consentito di organizzare un dispositivo di intervento immediato composto dai militari della tenenza di Nereto con i colleghi del reparto operativo aeronavale di Pescara. Attraverso sentieri impervi gli uomini delle fiamme gialle hanno raggiunto la zona collinare nel comune di Sant'Omero lungo l'argine del fiume Salinello ove nascosta dalla rigogliosa vegetazione hanno individuato la piantagione di marijuana composta da 2100 piante di un'altezza di due metri e mezzo oramai in piena fioritura e pronte per essere raccolte. Il campo insistente su un terreno demaniale fluviale era dotato di un ingegnoso e complesso sistema di auto irrigazione. Nell'area interessata sono stati rinvenuti anche fertilizzanti e attrezzi da lavoro utilizzati per la coltivazione. Le piante di cannabis opportunamente sradicate dal terreno oltre all'attrezzatura utilizzata per la coltivazione sono state così sequestrate. Il prodotto stupefacente una volta lavorato e immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di analisi dei rischi locali il cui continuo monitoraggio del territorio è assicurato anche grazie alla dinamicità e versatilità dell'impiego del mezzo aereo i cui apparati di ricerca e scoperta consentono di svolgere missioni idonee alle esigenze operative del corpo.